.. .. ... ... ... .. ma tutti ieri adesso questo provo è il pietro ma la con le gitargiche è con la macchia che gli aiuti non sono canso che è il merco a sedere perchè questo è per me lui vanno in via non si lui vanno in via non si pare che sia inocuino e se ferma un attimo e come chi se ferma ho giusto ecco qua il vero bisogna che chi dice adesso se ne va il momento per presentare i vostri ospiti speciali di Aserano fuori concorso ovviamente queste sono due pietre e miliardi del rutto sound troppo buoni troppo buoni il porco di albineà a cazzo vedo se ma via ragazzi così un grossissimo applauso perché non avete un'autorità del mondo loro non sono tutti lui si internaziona da Modena e da Reggio Emilia quindi ha fatto strada per venire qua stasera divertisce 20 ma come si si diverte e non vuole venire qua e ruttare per voi ma quindi e ruttare e ruttare un'arte volcare ma salutare Come si va a parlare dopo il settembre? Non dovete parlare alcuna di due cose? No veramente, l'Utto Sound è la manifestazione più importante della gara dell'Utto Italiana e io mi sento due aziende video e mi sento... Chi ti sei persi la ginta? No io sono quanti unissimi e lo vediamo qua grazie a Tedesco e quindi farei un grossissimo applauso lui è un grande comunque ragazzi questo è un grande lavoro ringraziamo davvero Andrea che ci ha invitato qua stasera ringraziamo tutti voi che siete qua ad ascoltare le nostre performance anche dal profondo del cuore o meglio dal profondo dello stomaco ma volentieri grazie un grosso applauso grazie mille questo è un ultimo applauso grazie grazie ragazzi è stato un piacere e come dico sempre io meglio segui la retta via che la via del retta grazie ciao a tutti spero di rivedere anche i barri o no? che tipo però non ho visto il fumetto non ho visto non ho visto non ho visto ma mia che emozione che emozionante vado per la farà che cosa è io non dico in mano spero dai fra i due dei loghi non sono niente non sono niente non sono niente e ora vai insomma mettare bene fin dentro cosa dico io no dai mi pare bene quindi grazie